Lo chiamiamo? Lo chiamiamo, lo chiamiamo. Maurizio Bartufello! Maurizio! Ciao Maurizio! Come stai? Che bello questi saluti improvvisati così, che uno non si è ancora salutato, non ci crede nessuno. No, 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 assolutamente, non lo faremo mai poi. Mai, mai, mai. Bene, se faccio me ne vado subito, no? No, no, dovete rimanere qua. Ah, ecco, tutta la sera. L'altra puntata, Dino dorme, amore dorme un'altra volta, lo fai apposta. Oh, vi incontrate sempre, vi date appuntamento. Ma tu lo fai apposta, questo è San Ninna. Eh, che vuoi fare? Come arrivai a palannannata, capisci subito si addorma. Eh, lo so, capirai. Gli anziani. Tra l'altra volta io ho recitato una poesia l'altra volta. Sì? Sì? E l'ho dedicata a lui. Si è addormentato? No, no, la stessa, la posso recitare una poesia. Par condizioni, reciteremo pure a me, no? No. Ma ti conviene? No, non mi conviene, se è come quella. Se è come quella. No, non mi conviene. Ho paura, capite, la cosa è. Però la posso recitare così, oggi non voglio recitare due, una all'inizio e una alla fine. Ok. Perché poi devo parlare delle suocere, la suocera mia. Sai che è morta la suocera mia? No. Non capisco. L'hai fatta fuori tu? No, è morta la suocera mia. Le notizie, secondo come te le danno. Io stavo in macchina, mi squilla il telefonino, ti chiedi, sono il cassa mortaio, porca. Alla parola cassa mortaio di qualche cosa è successo. Che è successo? È morta la suocera tua. Come la vuoi la cassa? Chiusa bene. Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. No, è viva. Continua a scherzare. E quest'anno la devo portare a fare una vacanza a uno lullo. Perché proprio uno lullo? Perché? Perché sta la sabbia per i bambini, il sole per i miei mogli, il sole per i miei mogli, il sole per i miei soci. Perfetto. Ma tu guardate tante poste, quella è andata a mortaio, e vanno dal cassa mortaio del luogo. Dice, siamo italiani, è morta la suocera. Dice, se la volete riportare in Italia, ci dice, quello costa 5.000 dollari. Ma se la seppellite qua, 150 dollari. La moglie dice, seppellimola qua. Ma che se malta? 2.000 anni fa da queste parti è morto un tizio di regione dopo, è risuscitato. Ma mica se può cuore storico. E che può capitare, storico, vedete? Assolutamente non male. Pensa che io, Gianni, la prima, l'unica casa che mi sono fatta, quando la stavo a costruire mi sono fatto la camera da letto tonda, la cucina tonda, la camera degli ospiti tonda, il garage tonda, è venuta la socia, la metto, c'è in angolo per me? Eh, no. Niente, non c'è niente. Eh, le sociele, ma le sociele sono belle però, le sociele. E poi, insomma, voglio dire, una sera io rientravo a casa verso mezzanotte, a un certo punto sento strillare, sai quando tutto di notte, aiuto, aiuto. Dico, bella, ma che è successo? Uno si guarda intorno a destra, non vedevo nessuno. Mi vanno gli occhi per aria al quarto piano di un palazzo, ci stava una vecchietta con le unica aggrappate ad avanzare della finestra e uno da sopra che gli appestava le mani così. Dico, fermati che l'ammazzi! E quella mia socie l'ammazza quando resiste! Hai capito? Pensa che una volta uno, pensa che una volta uno fa un incidente stradale tutta una famiglia all'ospedale, però nessuno sapeva quello che era successo all'altro perché stavano nelle stanze separate. Ma quello che guidava la macchina, diciamo così, il capo famiglia, con l'incidente aveva una trambata in bocca, che gli avevano uscito tutti a quei punti e parlava così come il culo della gallina, lo va a trovare qua, lo va a trovare qua e dice, compa, ma questo incidente com'è successo? Dico, compa, mannaggia, compa, uno stop, un bulma, ma gli ha fatto un piede, guarda, compa. Ma mia moglie come sta? Pensa che guarisci tu, compa. Tua moglie si è fatto male alla clavicola, 40 giorni esce dall'ospedale, meno male, so contento. E mio figlio, tuo figlio si è fatto male al ginocchio, 10 giorni esce con lui, meno male, so contento. E mia suocera? Eh, tua suocera purtroppo è morta. Non mi fa ridi che mi escusino i punti. Queste povere suocere sono... Però, 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 se tu ti metti un po' più vicino... Cammina sempre come un gambero, all'indietro. Adesso, vuoi sapere il perché? Perché il mio lato migliore è questo. Purtroppo sono di qua, guarda, c'è quella camera, vedo che ci inquadra, allora io faccio qui. A te te possono guardare pure col grand'angolo, amore, che sei bella dappertutto, guarda, ingegnata. Sono un 28, un fisciato. Però le suocere, caro Gianni, cara Giovanna per me... Va bene. Sono mamme. E certo. E io voglio dedicare una poesia a queste mamme. Io volevo dire una cattiveria, però non lo dico. No, voglio dedicare una poesia a tutte le mamme, perché la suocera è mamma comunque, no? Tu sei mamma. Un giorno sarò suocera anch'io, oddio tanto. Però io parlo delle mamme e vorrei dedicare una poesia a queste. Facciamo conto che c'è una sala parto e una donna sta per partorire un bambino. Il padre ce può esse e non può esse. In fondo nulla fa sta gran patica. Anzi, gli piace quel leggero stress che poi gli passa in me che non si dica. La madre invece se lo porta dentro per nove mesi, il seme che gli cresce. Quante paure. Quanto accoramento. Quanto dolore. Quando al fine esce. Perciò vi dico. De conservarla sempre dentro al cuore la mamma. Signori, brava gente. La mamma è tutto. Il resto non è niente. Che bella. Allora. Bellissima. Allora, grazie, grazie. Però, però. Dovi una cosa, perché magari la gente è abituata comunque a vederti in televisione in un certo ruolo comico. Invece Mauri, eh no, no, parecchi non lo sanno. Perché poi alla fine quando uno lavora in teatro e fa spettacoli diversi da quelli che, no? Un abituto a vedere in televisione non si ha. Ma lui è un attore drammatico di quelli veri. E non so ne andarlo a vedere. Quando vedete il manifesto che sta in qualche teatro. Usate, andate a vedere cose diverse da quelle che conoscete. Troppo buona. Però adesso volevo recitare una poesia. Sei bello. E ti tirano le pietre. No, è bellissimo. Sei brutto. E ti tirano le pietre. Sei cornuto. E ti tirano i cerchietti. Hai capito? Oh, bene. Adesso non so se chiudere con una cosa seria o una cosa comica. Dovete decidere voi due. Quello che il tuo istinto dice. Che siete i conduttori. Vai con l'istinto, vai con l'istinto, dagli retta. Ok. Che mondo, ragazzi. Roba da matti. Noi però cerchiamo di sorridere. Di sorridere sempre di più. La gente ha perso il buon umore, la speranza, la stabilità, i soldi, la vergogna. E sta perdendo la libertà. Ma noi dobbiamo sorridere. Sorridere di cuore di come il mondo va. Non dobbiamo mai uccidere l'ironia e il gusto dell'irarità. Che mondo, ragazzi. Roba da matti. L'uomo, secondo me, nasce con un desiderio che poi si chiama felicità. E chi dice o non rido perché sono serio, è un serio rappresentante dell'impecilità. Ci sono sorrisi che non dimentichiamo mai. Ci restano nell'anima, precisi, perché hanno allontanato per un istante i guai. E quando li ricordi, ridi da solo, come un pazzo. Dicono il sorriso abbonda sulla bocca degli stupidi. È ridicolo. Sono loro gli stupidi, quelli che hanno coniato la frase. Ridere un canto d'amore, di libertà. Chi sorrida è intelligente, è attraente. Ridere purifica, rende belli, fa crescere i capelli. Ridere cancella le rughe perché ridere fa entrare più aria nei polmoni. Se avessi una bacchetta magica vi farei ridere in eterno. Perché la vita senza un sorriso è tragica. Una stronzata, un inferno. E allora ridiamo. Sorridiamo. Accettiamoci così come siamo, alti, bassi, pelati e grassi. Diciamoci apertamente ti amo e che ti voglio bene diventi una prassi. Il sorriso è di vitale importanza. Un sorriso arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno e nessuno è così povero da non meritarlo. È il segno sensibile dell'amicizia profonda. Un sorriso non si può comprare, né prestare, né rubare. Perché è solo valore nell'istante in cui si dona. E se poi incontrando chi l'ha aspettato sorriso a voi non dona, siate generosi e date il vostro. Perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo. Grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao. Grazie. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie Maurizio. Bellissimo. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.